Bella raga, prima cosa, abbiamo creato un secondo PG sul server Alinteus, giocheremo entrambe i PG sia su Anomora che su Alinteus, ma se volete venire o se siete già su Alinteus creeremo una gilda anche qui, troverete tutti i dettagli sul mio Discord, quindi lo trovate in descrizione, per il resto, per quanto riguarda il video, parliamo parlato di Frigg, se dovreste pullarla, che cosa fanno gli effetti, eccetera eccetera, quindi questo è quello che vi aspetta, è un ritaglio della live, spero vi sia utile a tutti, ci vediamo dopo, bella! Comunque, come ben sapete hanno annunciato Frigg, quindi parliamo un pochettino di Frigg direi, con un paio di premesse, d'accordo? Allora, Frigg non uscirà con risonanza ghiaccio, perché ha già una passiva, ok? Ha già una specie di risonanza, tra virgolette, che unita a quella che sarà risonanza ghiaccio di Saki Fuwa in futuro, la rende una coppia veramente allucinante, d'accordo? E comunque, in sé per sé, Frigg è un DPS ghiaccio a shutter e charge medio-alti, ok? Medi, facciamo così, ma non è la cosa che ci interessa, perché di Frigg ci interessa tutt'altro, d'accordo? Allora, chiaramente, c'ha la sua, c'ha l'effetto Frost sull'arma, questo chiaro come tutte le unità, tutte le armi ghiaccio, e c'ha il suo Frozen Domain. Cosa è il Frozen Domain? Dopo che utilizzate la sua prima skill, il suo 1, ok? Molto semplicemente create una zona di ghiaccio sotto di voi, dove prendete dei bonus. Questi bonus sono rotti, raghi, ok? Questi bonus sono maledettamente rotti. Vediamo un po'. Innanzitutto dura 25 secondi, quindi questa zona che creiamo sottolinea dura 25 secondi. Qua dentro, tutti i dodge che facciamo non consumano stamina, ok? Nel senso, voi sapete che avete 3 dodge al massimo nel gioco, ok? Poi si ricarica la barra. Quando siete qua dentro e state utilizzando Frigg li avete infiniti, ok? Primo effetto. Il secondo effetto è che quando utilizzate delle armi ghiaccio, quindi stiamo parlando anche di Tsubasa, stiamo parlando anche di Meryl, stiamo parlando anche di Saki Fuwa, ok? Aumenta l'attacco ghiaccio del 15% e lo Shutter Damage del 25%. Praticamente in un team ghiaccio, che è il motivo per il quale lei è puramente team ghiaccio, è che questa roba qua è una risonanza in sé per sé. Anzi, potreste vederla meglio di una risonanza perché fa anche uno Shutter Damage. Quindi Meryl, da questa roba qua, prende tanto 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 bonus, ok? Quindi questa è la prima cosa, sicuramente. Prima cosa per la quale Frigg è un'arma che volete assolutamente pullare, se volete fare un team ghiaccio in futuro, ma anche per il PvP, perché capite bene che 25 secondi di terreno dove avete dodge infiniti in PvP non è male, d'accordo? Nel senso, comunque, passiamo alle altre cose importanti, chiaramente, per quanto riguarda Frigg, per farvi capire un po' di cosa parliamo. Prima delle stelle, voglio parlarvi dell'awakening, ovvero del tratto, ok? Che è un'altra cosa molto forte. Aumenta il nostro attacco ghiaccio, quindi in un team ghiaccio questa roba è molto forte, del 2.4% ogni 3 secondi, fino a 10 volte. Quindi, in 30 secondi, può arrivare a 24%. 24% di danno ghiaccio in più, più il 15% che abbiamo qua, ok? Di base, raga, no? Avendo solamente il tratto e utilizzando la skill di Frigg. Quindi questo è il motivo per il quale Frigg è il fulcro, diciamo, del team ghiaccio, insieme a Saki Fuwa per la resonance, insomma. Ed è per... In realtà anche Meryl ne trae tantissimo vantaggio, tutte le unità ghiaccio ne traggono vantaggio da sta roba qua. Comunque anche il trait è molto forte, sicuramente. Prima di parlare delle stelle ancora, o forse c'è bisogno di parlare delle stelle, fammi vedere. Sì, parliamo prima delle stelle. Non è detto che non ha questa resonance? No. Sto dicendo che non avrà della resonance ghiaccio, ma perché ne ha già una di suo. Ha già una sua passiva. Questa non è una resonance. La resonance ghiaccio c'è la Saki Fuwa, che è identica a quella Eletro, che è a Nemesis, ok? Difatti, Frigg più Saki Fuwa, avete praticamente il 30% di danno in più, 25% di shatter e 25% di difesa da il danno ghiaccio, ok? O 40%, non mi ricordo quant'è, insomma. Solamente avendole in team insieme. Solamente avendole in team insieme. In ogni caso, stelle. Qua è tradotto male, però guadagnate una stack che si chiama Frostiness, che è semplicemente il nome della stack, ok? Ogni volta che, non quando ricevete danno, ma quando fate danno, questa roba è sbagliata, d'accordo? Quando fate danno pari o più di questa percentuale qua, nel domain, quindi quando avete la skill giù. Quindi quando avete la skill giù e fate il danno ghiaccio aumentato, praticamente vi dà una stack, ok? Queste stack arrivano fino a 10. Quando il dominio finisce, moltiplicate il numero di stack che avete per il vostro attacco, ghiaccio, per il 95%, quindi per 95% e fate questo danno a tutti i nemici. Questo qua è un burst di danno allucinante, perché questo non è un più, questo è un per, ok? Quindi ogni stack di questa roba qua che riuscite a prendere, quindi più siete buffati e più riuscite a proccare questa cosa qua, d'accordo? Prendete una stack di Frostiness ogni volta che fate x danno ghiaccio, mentre siete dentro il frozen domain. Quando il frozen domain finisce, in base a quante stack avete accumulato, moltiplicate queste stack per il vostro danno ghiaccio, per il 95%, e questo danno è il danno che fate a tutti i nemici quando finisce il terreno. E questa è la base di Frigg, ok? Il C1 è la base di Frigg. Chiaramente C2 e C4 non li guardiamo perché sono i classici aumenta HP, aumenta attacco, quindi è inutile. Ora, la terza stella, che è una delle cose alla quale si mira di più di Frigg, aumenta queste stack che potete prendere fino a 15, ok? Quindi già di base, aumentando le stack, aumentate anche il C1. La terza stella dice, quando utilizzi una discharge skill di un'arma ghiaccio, ok? Quindi Merrill, Tsubasa, Sakifuwa, Frigg, solo per il team ghiaccio, raga. Lei non potete metterla in nessun'altra parte, se no non ha senso. Cioè funziona anche da sola, tra virgolette, però, ok? Quando la utilizzate dentro il domain, quindi dentro la sua prima skill, diciamo, dentro questo terreno, che ricordate, 25 secondi, raga. Ma 25 secondi sono tantissimi, raga, ok? Cioè voi, se vi rendete conto, 25 secondi sono tanti. Non sono pochi 25 secondi. Comunque, quando utilizzate una discharge skill di tipo ghiaccio, fate danno per il 25% del vostro Frost Attack per le stack che avete qua di Frostiness, più 5, ok? Quindi, ricapitolando, accumulate stack facendo danno nel terreno. Quando il terreno esplode, in base a quante stack avete fatte del danno ghiaccio, ok? Con la terza stella, quando utilizzate una discharge skill, oltre a quell'esplosione del terreno che fa con la prima stella, ne fate un'altra, sempre moltiplicativa, che a differenza di prima, vi considera le vostre stack per più 5, no? Quindi mettiamo che avete accumulato 5 stack, la terza stella ne conta 10, e poi lo moltiplica per il 25% del vostro danno ghiaccio che avete, ok? Quello ha. Comunque, quindi praticamente terza e prima stella si basano tutto sull'accumulare queste stack e farle esplodere all'interno del domain, ok? È uscita direttamente da Jujutsu Kaisen, questa qua raga se ve lo state chiedendo è proprio lì, è quel domain lì esattamente. Ehm, in ogni caso, anime a parte. 5 stelle. Spaccare scudi utilizzando delle armi ghiaccio, congelano il target per 2 secondi, e fanno danno pari ai vostri frostiness point, che sono quelli che abbiamo visto prima, per il frost attack, per 35. Ok? Quindi, pericapitolando. Pare danno, spaccare scudi, ok? Utilizzando armi ghiaccio, Meryl, congela il target per 2 secondi, e gli fa danno aggiuntivo, pare a quanti stack ha, per il frost attack che avete, per 35. Questi sono tutti dei per, capite? Cioè, sta roba qua non è più, è per, raga. Per, 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 tutto per, è tutto per, ok? Ah, giusto, se il target non può essere congelato, raddoppiate il danno che fate. Così. Perché mancava qualcosa, capite? Mancava qualcosa, quindi, se il target non può essere congelato, raddoppiate il danno che fate, perché magari i boss non possono essere congelati, capite? Comunque, 6 stelle, raggiungere 5 frost point, i frost point sono questi qua, sempre della prima costellazione, perché arriviamo a 15 grazie alla terza, mentre siete dentro il domain, qua dentro, ok? Vi da frozen domain 2, quindi, arrivate a Jujutsu Kaisen Season 2, ok? Quando utilizzate armi ghiaccio, aumentate l'attacco del 25%, ok? Così. È molto semplice, 6 stelle è molto semplice. Se hai 15 stack, ti sblocco domain 2, ok? Tac e te, 25% di danno, così, tu tu tu, però ricordatevi che, 6 stelle, 5 stelle, 4 stelle, anche 3 stelle, non è proprio facile da fare, ok? Quindi è normale. Poi tutte le armi sono forti a 6 stelle, raga, ok? Comunque, questo è. Quindi, concetto di Frigg, abbiamo il nostro dominio, 25 secondi, dove abbiamo danno ghiaccio, 15%, e Shutter 25%. Quando siamo qua dentro, in base alle stelle che abbiamo, accumuliamo delle stack. Queste stack, quando il dominio finisce, o quando utilizziamo una skill, o quando utilizziamo armi ghiaccio, vengono moltiplicate per dei fattori di danno ghiaccio, d'accordo? E fanno del danno extra, ok? Quindi questo è come funziona Frigg. E se pensate che Frigg è alla base del team ghiaccio, perché è rotta, non avete ancora visto Saki Fuwa. Già che abbiamo parlato di Frigg l'arma, parliamo di Frigg, le matrici, perché le matrici di Frigg, chiaramente Frigg è un DPS, quindi come matrici, come vi fa vedere qua, vi consigliano sempre di giocare 2 Samira e 2 Crow, come per tutti gli altri DPS, come vi ho detto anche nei video che ho fatto, raga, ok? Quando giocate un DPS, di base quello che volete fare è 2 Samira e 2 Crow, e poi ci sono delle eccezioni, come ad esempio Saki Fuwa o Frigg, ok? Saki Fuwa per 4, non la guardiamo neanche perché è fuori di testa, comunque, Frigg, attenzione, attenzione raga su sti chip, quando cambi da un'arma ghiaccio a un'arma ghiaccio, l'attacco ghiaccio è aumentato del 15%, guardiamo solo il primo bonus perché è inutile guardare le costellazioni, per 10 secondi, 4 pezzi, quando utilizzate il Frozen Domain, ovvero quando mettete il cerchio a terra dei 25 secondi di Frigg, i nemici che entrano nel Domain prendono il 60% del vostro attacco ghiaccio ogni secondo, e niente, e questo chiude un pochino quello che è l'essenza del team ghiaccio che avremo noi come meta da noi, d'accordo? Cioè queste matrici in un team ghiaccio sono dannatamente forti, funzionano solamente in un team full ghiaccio, però aumentate i danni e fate danno ogni secondo per 25 secondi di una percentuale del vostro attacco ghiaccio, ok, per il video era tutto, spero davvero vi sia stato utile raga, quindi ovviamente se volete pullare Frigg e avete serie intenzione sul meta team ghiaccio, ok, è un ottimo pick, ovviamente dobbiamo vedere se i valori che abbiamo visto sul cinese rimarranno identici, se il Frozen Domain rimarrà identico o se avrà una risonanza ghiaccio, dobbiamo vedere se cambia qualcosa, quindi penso che lo scopriremo molto 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 presto, non so se lo scopriremo pre-release o dopo release, ma vedremo. Per il resto questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia stato utile, vi ricordo che streammo live su Twitch tutte le sere, siete in tantissimi e sono felicissimo, quindi mi auguro di vedervi lì, noi ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, una buona giornata a tutti, bella! Grazie!